Si chiama Roxley Dosso, è una bimba di soli 11 anni d'età che vive a Ice County, Texas, negli Stati Uniti d'America. Le fu diagnosticata a 10 anni un DIPG, Diffuse Instrinsec Pontanglioma, un tumore situato alla base del cranio. La massa cancerosa situata alla nuca della bambina spingeva sulla spina dorsale della bimba rendendo il tumore in questione inoperabile. Ma pensate che la bambina è guarita, non si sa come, non si sa perché, non si sa per quale strano motivo, ma è passata da nessuna cura possibile e plausibile a nessuna traccia del tumore inoperabile che effettivamente aveva in tempi passati. Voglio congratularmi veramente con i miracoli, a volte i miracoli esistono e penso che questa ragazzina possa gridare al mondo di essere una di quelle persone miracolate da Dio, l'essere onnipotente per eccellenza. Grazie per l'ascolto, complimenti a questa ragazzina, un saluto caro, iscrivetevi e al prossimo video da Narratore Italiano.